successo di carattere per il corigliano che a bel vedere soffre sciupa ma alla fine raccoglie tre punti importantissimi per conservare la seconda piazza e il distacco inalterato dalla vetta nella seconda di ritorno del giovane a di promozione la squadra di mister andreoli espugna un campo difficile al cospetto di un avversario mai domo seppur ridotta in dieci nella seconda parte di gioco per l'espulsione di riente la formazione del tecnico curcio si dimostra temibile fino alla fine tirrenici che tengono testa agli ionici che dal canto loro quando sono pungolati nella fattispecie raggiunti sul risultato di parità in ben due occasioni reagiscono vehemente riportandosi sempre in vantaggio match carico di emozioni specie nei secondi 45 minuti che mette a nudo anche qualche defiance giornaliera e di troppo degli ospiti soprattutto nel reparto arretrato coriglianesi che con qualche claudicante e senza capitano tricarico fermo per un guaio muscolare ritrovano in calomino alla sua prima partita da titolare il trascinatore di turno che nel finale veste anche i panni di match winner per la cronaca il conteggio delle azioni si apre subito con il gol del corigliano giunto al nono assist di concialdi e colpo di testa vincente di piemontese la risposta del belvedere non tarda ad arrivare al ventiduesimo riente approfitta di un'indecisione della difesa bianca azzurra e a tu per tu con il portiere abate matteo sbaglia il pallonetto del pareggio e al trentottesimo e invece amendola per i locali che sempre tetta tetta con l'estremo difensore bianca azzurro con un tiro decentrato mette la sfera al lato quindi il corigliano che tenta il raddoppio al quarantesimo con piemontese di testa lo stesso numero 9 bianca azzurro si ripete su conclusione al quarantatresimo e prima dell'intervallo altra azione pericolosa per i bianca azzurri con concialdi direttamente su calcio di punizione con la palla finita di poco fuori nella ripresa al primo minuto e proprio concialdi che da buona posizione sbaglia il tocco sotto misura per la deviazione vincente quindi al quarto ancora concialdi serve piemontese ma di testa questa volta manda di poco fuori frattanto gli amaranto restano in dieci per fallo da dietro prima e per proteste dopo del numero 9 riente ancora concialdi al dodicesimo ancora su calcio piazzato ma alla sfera finisce sul fondo al quattordicesimo ci prova anche l'eta con la traiettoria che termina sopra la traversa al diciassettesimo invece fallisce il tapin vincente sottoporta proprio piemontese e al diciannovesimo rinaldi si vede annullare un gol per presunto fuorigioco il belvedere ci prova invece al ventisesimo con filippo ma il tiro è debole mentre pochi secondi dopo lo stesso amendola approfitta di uno svarione difensivo biancazzurro per mettere la palla in rete che vale il momentaneo 1 a 1 passano due minuti e al ventottesimo piemontese serve al centro di testa la palla del 2 a 1 ad accardo che non sbaglia sull'inzuccata vincente al trentasettesimo invece direttamente su calcio di punizione morabito inganna abate matteo che tocca ma non trattiene la palla che si infila in rete per il momentaneo 2 a 2 quindi al quarantesimo calomino ben servito da dietro su incursione centrale indovina il pallonetto vincente che vale il 3 a 2 finale e i tre punti in classifica gol vitale al fine della vittoria del corigliano che innesca uno spontaneo e appassionato abbraccio tra squadre e tifosi sotto il settore ospiti a modi parete biancazzurra abbraccio che si ripeterà a fine gara come da copione per festeggiare un trionfo sudato ma dettato dalla personalità e da martedì nuovamente sotto con le sedute d'allenamento per preparare la sfida interna contro l'aprigliano a margine del match ascoltati il tecnico del belvedere curcio e il del corigliano de marco sapevamo che era difficile per corigliano diciamo che la una delle squadre migliori insieme all'olimpic della categoria e l'abbiamo affrontato con un po di deficienze organiche perché magari tra influenze qualcuno è mancato eccetera eccetera quindi più difficile ci veniva però mi rimane il rammarico per aver perso insomma per aver preso dei gol insomma balordi ma nulla a togliere poi al al gioco e al al blasone del corigliano e che prendere quelle gol su due a due palla tranquilla piazzata una defesa piazzata insomma è rimasto un po la mare in bocca belvedere che ha dovuto fare anche di necessità virtù perché è rimasto in dieci però alla fine anche lì l'inferiorità numerica non è pesata no no è certo giocare 11 contro 11 è un vantaggio anche per per noi poi giocare in dieci contro una squadra come il corigliano certamente non è non è da poco ma nonostante tutto abbiamo per ragione quando eravamo in nove perché c'era anche il centrale Filippo che si era fatto male al labbro e quindi abbiamo progetto in nove e però è giocare dieci quasi tutto il secondo tempo diciamo che forse non agli occhi degli altri non pesa ma a me ha pesato molto ma su questo io non ho dubbi sulla salvezza che noi cercheremo di conquistare ma la conquisteremo se giochiamo abbiamo giocato a rogiano con intensità con cattiveria anche a livello difensivo oggi non mi è sembrata così e quindi è questo che più mi ha preoccupato questo questo diciamo poca concentrazione soprattutto il secondo e il terzo gol perché la non puoi prendere gol e se tu non sei concentrato puoi avere anche i squadri giocatori di serie a perché per perdere le partite e questo non ci sono dubbi anche perché ho fior di giocatore non è che metti adesso in dubbio i giocatori è che noi per esempio tutta la squadra che abbiamo rifatto l'abbiamo fatta a dicembre e quindi tutti i giocatori che sono da dicembre c'è il più il più allenato è la ferma da un mese ci siamo allenati 15 giorni a dicembre alle feste natalizie e quindi adesso prendo un ritmo partita c'è la condizione verrà migliore però se non sempre restante che ci vogliamo salvare dobbiamo essere concentrati per 90 minuti e non fare errori di terza categoria nulla a togliere al corigliano che poteva vincere 7 a 1 eccetera c'è nulla a togliere però quando tu hai la possibilità di perdere due volte la partita deve essere un po' più cattivo dietro o più concentrato a evitare certe distrazioni solo questo non è altro dell'altro devo fare i complimenti ai miei ragazzi per come hanno giocato per come hanno interpretato la partita per quello che hanno dato perché lo che volevano dare non ci sono riusciti e quindi diciamo che sono contento da una parte scontento dall'altra non la voglio dire al corigliano che secondo me sarebbe dalla fine alla fine con l'olimpico perché sono due grosse squadre è stata una partita molto difficile però ringraziando a dio abbiamo ottenuto i tre punti quello che ci serviva sempre creduto come si è visto poi noi abbiamo avuto diciamo siamo stati subito pronti a riabilitare la partita però ancora accettando da lavorare e tendo da migliorare c'è sempre da tenersi pronto diciamo in qualunque scelta del mister